Un traguardo importantissimo, 20 anni che sono passati anche molto veloci. Il 16 dicembre è la data in realtà del nostro compleanno, però il 17 novembre abbiamo fatto questo convegno a tutti i guariti per ricordare questo momento e per ricordare quelli che sono i nostri veri obiettivi, cioè che i bambini ammalati devono guarire. La torre è pronta, era pronta già da un po', adesso è abitata, che era la cosa più importante, perché noi l'abbiamo sempre detto, era più importante il contenuto che la costruzione. Adesso sta partendo il piano triennale, i ricercatori sono all'incirca 200, quelli che la popolano potranno arrivare a 350-400 a regime e soprattutto stiamo concludendo degli accordi molto importanti con gli istituti di ricerca in giro per il mondo. La prossima tappa sarà quella di trovare e dare l'incarico a un direttore scientifico che permetta poi di seguire questi lavori e di farla diventare un punto di riferimento nazionale e internazionale. Città della Speranza oggi raccoglie all'incirca tra i 4 e i 5 milioni di euro all'anno, sembra un numero importante, ma noi sappiamo che per far funzionare la ricerca e quindi per dare cura ai nostri bambini dobbiamo fare in modo che quel centro abbia un giro di denaro tra i 20 e i 30 milioni di euro. Sembra una cosa incredibile, però se noi facciamo il conto che nel Veneto ci sono 5 milioni di abitanti circa, sarebbero più o meno 4 caffè all'anno, quindi uno al trimestre donato alla Città della Speranza. In realtà non parliamo di donazione, ma parliamo di investimento. Investiamo nel nostro futuro, investiamo nei nostri ragazzi e riportiamo il principio importante che attraverso la sanità, attraverso la ricerca, attraverso la ricerca della cura si possono far nascere aziende, si possono far muovere l'economia, si possono creare posti di lavoro. L'Istituto di ricerca pediatrica ha 400 posti per i ricercatori, più tutto l'indotto che potrebbe essere veramente importante. Se quando abbiamo fatto l'Istituto di ricerca il nostro obiettivo era portare un bambino guarito a lavorare, e ci siamo arrivati, adesso l'obiettivo è far nascere delle imprese da questa torre. Devono nascere delle imprese innovative, tecnologiche e che possono far tornare l'entusiasmo in questo nord-est che ha ancora delle potenzialità incredibili.